Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti del mese di aprile, in generale dell'ultimo periodo. Vi avviso che ci sono tantissime cose proprio random, da i soliti, vabbè, libri, fumetti, qualche prodottino beauty, vestiti, patatine e un accessorio per il gatto, diciamo così. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di te attraverso Ko-fi, il link lo trovate qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata, i miei link da affiliata ad Amazon, attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo, come al solito, dal reparto beauty e con un prodotto che non posso mostrarvi fisicamente, perché il mio gatto me l'ha rotto, perché adoro tantissimo il nuovo fondotinta di Sephora Collection, il Best Skin Ever, che appunto il mio gatto mi ha distrutto. Ha infatti il pack di vetro e buttandolo giù dalla postazione del trucco è esploso in mille pezzi. Io sono riuscita a salvare parte del prodotto, l'ho dovuto travasare in un barattolino orrendo, però vabbè, l'importante è che parte del prodotto si è salvato, perché mi stava piacendo veramente tantissimo come fondotinta, e sarebbe stato un peccato non recuperarne nemmeno una goccia. È un tipo di fondotinta che non copre completamente la pelle, è un effetto, diciamo, seconda pelle, quindi alcune imperfezioni magari non vengono corrette, ma a me non dà fastidio, anzi io preferisco gli effetti più naturali. Oggi ad esempio non ho per niente il fondotinta, per dirvi, non sento sempre la necessità comunque di mettere qualcosa sulla pelle, nonostante io non abbia una pelle perfetta, per cui è un prodotto che a me piace molto per questo, perché ha un effetto naturale, molto leggero, confortevole anche durante la giornata e soprattutto non va a enfatizzare le piccole rughe magari di espressione o i pori. Non va poi nelle pieghe, quindi per me è assolutamente un buon prodotto. Lo stendo sempre poi con il pennello che mi è stato inviato da Sephora Collection assieme al fondotinta attraverso Octoly, che è un pennello che mi sta piacendo tantissimo. È il 06, è super morbido, stende perfettamente il prodotto, non lascia strisciate, è veramente molto confortevole. L'ho utilizzato anche con altri miei fondotinta e è perfetto. Altro prodotto sul lato, diciamo, trucco naturale è questo prodotto per le labbra di Colourpop della collezione con Animal Crossing. Vi avevo fatto un reel con questa collezione perché sono super patita di Animal Crossing, quindi non potevo farmela sfuggire. Questo faceva parte di un kit di due prodotti labbra. Questo in particolare si chiama Incomparable ed è quello più nude, leggermente pescato, ho già utilizzato un bel po' perché è appunto uno di quei prodotti che si può mettere tranquillamente anche senza specchietto. Non è particolarmente pigmentato, dà un leggero colore, rimane lucido. Molto morbido, sembra di indossare un burro cacao leggermente colorato, ha un buonissimo profumo di frutta dolce. In teoria dovrebbe sapere, diciamo, di pera ma ha proprio questo profumo molto dolcino. Ultimo prodotto beauty che sto particolarmente adorando è questo gommage viso di Yves Rocher che io avevo trovato nel calendario dell'avvento appunto verso Natale, infatti mi è rimasto pochissimo prodotto. Si chiama Gommage Granite Eclat. È praticamente una sorta di scrub però molto delicato e leggero per il viso. Ha un profumo molto molto intenso di tipo rosa o gardenia. Non mi piace perché è molto forte e intenso, però diciamo che non è un prodotto che va lasciato in poso, che rimane sulla pelle. Quindi una volta messo si massaggia, ha delle piccolissime particelle che vanno appunto a fare un delicato scrub sulla pelle e poi va risciacquato e non rimane questo profumo invadente. Per questo a me piace e soprattutto mi piace l'effetto che ha la mia pelle subito dopo averlo utilizzato perché è veramente morbida, non si arrossa particolarmente perché è appunto uno scrub molto delicato. Passiamo ora alle letture. Un fumetto che ho letto recentemente che mi ha fatto tantissimo ridere è Fatti Forza Nakamura. Si tratta di una commedia scolastica molto in stile anni 90. Mi ha ricordato un po' i fumetti tipo Il giocattolo dei bambini, Rossana per intenderci. È molto simpatico e vede per protagonista questo ragazzo gay piuttosto timido e impacciato che è innamorato, si è preso una cotta per un suo compagno di classe, ma non ci ha mai parlato, non sono nemmeno conoscenti amici, quindi lui cerca in tutti i modi di avvicinarsi a lui ogni tanto poi fantastica delle scene in cui potrebbe avvicinarsi e rivolgergli per la prima volta la parola, ma tutte le volte succede qualcosa di inaspettato. Molto molto carino, quindi se vi piacciono i manga un po' degli anni diciamo 90 vi consiglio di dargli un'occasione. Se non sbaglio è un volume unico, yes! Altro fumetto che mi ha conquistata, ma che ha i toni decisamente diversi rispetto a questo manga, ho trovato il mio posto nel mondo di Jenny Jordal. Questo mi era stato inviato da Sonde Edizioni in antiprima ed è una storia che parla di disturbi alimentari. La protagonista è infatti una ragazzina in sovrappeso che viene tartassata dai compagni di classe, ma purtroppo anche dagli adulti e questo accresce sempre più le sue insicurezze. Arriva a un punto in cui i genitori le consigliano di perdere peso, ma questo non risolverà per niente i suoi problemi di autostima, di socializzazione. Arriverà a un punto in cui rifiuterà completamente il cibo. È una storia che parla anche di amicizie, di quel periodo che molti di noi, scommetto, abbiamo vissuto, soprattutto nel periodo fra elementari, medio, comunque all'inizio della nostra adolescenza, in cui non sapevamo bene chi fossimo, non sapevamo bene come rapportarci agli altri. Eravamo un po' alla ricerca della nostra dimensione, della nostra personalità, del nostro posto nel mondo. È una storia che mi ha riempito veramente il cuore. Altro preferito non solo per fare attività fisica, ma anche per fare le faccende in casa, è questo set di Oceans Apart, il Kira Deluxe. La parte sopra è fatta in questo modo, è un vero e proprio reggiseno sportivo, sostiene tantissimo. Ha poi una zip sul davanti che rende più facile mettere e togliere il top. Nel set c'è anche una felpina, che io sto indossando anche solo per uscire di casa, senza dover necessariamente fare attività, cioè proprio da tutti i giorni, anche sopra i jeans tranquillamente, perché è molto molto comoda. All'interno è leggermente felpata, quindi per questi giorni ancora un po' freschini, è perfetta. È un po' scavata sul davanti, è crop e ha l'elastico alle estremità. Il colore poi di questo set mi fa impazzire, è veramente bellissimo e anche i pantaloni sono estremamente comodi, aderiscono perfettamente al mio corpo e sarà che questo set l'avevo scelto nella versione petite, quindi pensato per quelle persone alte non più di 1,63, quindi mi calza particolarmente bene anche per questo motivo, ma è veramente anche il tessuto da essere molto comodo ed elasticizzato. Io collaboro con il brand su Instagram, quindi ho avuto modo di provare diversi loro set, hanno tutti un materiale davvero ottimo, sono molto comodi. Per fare attività poi trovo che siano particolarmente belli esteticamente, quindi ti motivano un po' di più e almeno nel mio caso mi vedo con un fisico un po' più carino e quindi mi sento maggiormente motivata. Fra quelli che ho provato per ora, questo è forse il mio preferito per quanto riguarda il tessuto, la comodità, il colore, come mi sta addosso e anche come riesco a sfruttarlo, perché come vi dicevo lo indosso non solo per fare attività ma anche per uscire o fare le faccende in casa. Mi viene da ridere perché la prossima cosa che voglio farvi vedere è totalmente opposta al senso di fare attività fisica, di stare in forma, perché è un pacchetto di patatine in busta. Però non è una patatina qualunque questa, ma è il gusto teriyaki. Io ho comprato questa busta da Tenoa, un concept store giapponese qua a Milano, che vende anche online, quindi non è necessario che voi siate di Milano per acquistare da Tenoa, ma non l'ho trovato soltanto da Tenoa. Questo prodotto lo avevo ordinato ad esempio anche da Katai, un altro sito che vende food etnico, in particolare giapponese, ma l'ho visto anche su altri siti che vendono alimentari etnico, quindi basta semplicemente dare magari una spulciata. Io per ora l'ho comprato in questi due posti qua, e devo dire che mi piacciono tantissimo perché hanno questo gusto leggermente, non dico speziato, però sa quasi di carne alla griglia, ma non in maniera troppo invadente. Non mangio spessissimo patatine, però mi piacciono gli snack anche salati, e una volta ogni tanto mi piace togliermi uno sfizio. Questo è un gran bello sfizio per quanto mi riguarda, sono veramente gustose. Cosa totalmente random, questo guanto per raccogliere il pelo del gatto, quindi per spazzolarlo e raccogliere il pelo che perde. In passato ho provato dei guanti per spazzolare e raccogliere il pelo, e non mi sono trovata particolarmente bene. Mi sono detta, ok, ogni gatto è diverso, magari cambiando la marca può cambiare anche la resa del prodotto. tentiamo, e devo dire che sono più che soddisfatta da questo guanto. Sono rimasta, l'unica cosa che mi ha lasciata un po' perplessa è che appunto rispetto a tutti gli altri prodotti che si possono trovare di questo tipo, quindi guanti per spazzolare il gatto, eccetera, questo è venduto da solo. In genere questi guanti vengono venduti a coppia, questo è arrivato da solo. Però vabbè, a parte questo, non ci potevo credere all'inizio, ma effettivamente intrappola il pelo del gatto. La cosa poi molto bella è che questo guanto, oltre ad avere dei dentini molto molto morbidi e delicati, di penso gomma, su questo lato che quindi massaggia, in un certo senso spazzola nel gatto, e i peli che cadono si intrappolano fra i dentini, dall'altra parte è in un tessuto tipo quasi velluto, che serve a catturare i peli che si depositano sui tessuti, quindi sul divano, sui cuscini, su altri tessili. Praticamente va passato così, o con la mano infilata, ognuno fa come crede, in un verso, che è quello che fa, diciamo, attrito sul tessuto, in questo modo i peli si intrappolano e poi per rimuoverli basta passare dal verso opposto, quindi quello che non fa attrito e i peli vengono via immediatamente, cioè è veramente facilissimo il modo in cui acchiappa ed è possibile poi pulire questo guanto. Forse ci ho dedicato anche fin troppo tempo, ma sono rimasta molto sorpresa, perché appunto in passato non mi era mai capitato di trovare un guanto così funzionante, e soprattutto in questo momento che inizia appunto a perdere il pelo e il gatto, mi sta veramente aiutando tantissimo. La marca penso sia Fretod, comunque cercherò di lasciarvi il link ad Amazon qua sotto in descrizione. A questo giro non ho delle applicazioni molto fancy da condividere con voi, però un paio di applicazioni che ho scoperto nelle ultime settimane che sto effettivamente utilizzando tanto sono Stockard, applicazione che forse conoscerete già, io la conoscevo già da tempo, però non l'ho mai veramente sfruttata quanto nelle ultime settimane, vi permette di inserire le vostre carte fidelity, quindi che so, del supermercato, del negozio d'animali, delle profumerie, eccetera, eccetera, ed è molto comodo se magari in famiglia avete una tessera e magari vi capita di uscire da soli, non avere tutte le tessere con voi, comunque è normale che se la tessera e una in famiglia si è, in tanti non sempre si è a disposizione, oppure come nel mio caso io non ho un vero e proprio portafoglio, ma mi piace girare molto leggera con un portatessere in cui inserisco veramente soltanto le cose più base che si possano avere e quindi non giro sempre con tutte le mie carte fidelity, che so, quelli che ha family, con quella del supermercato, dell'esse lunga, eccetera, quindi è molto comodo perché in questo modo si va sull'applicazione, si va sulla tessera desiderata e poi alla cassa vi sparano il codice a barre, diciamo che è quindi un'applicazione pratica. Un'altra molto carina che utilizzo soprattutto per modificare un po' le storie su Instagram è VN, ed è un'applicazione di editing video, quindi voi potete inserire i vostri filmati ed editarli, si possono mettere testi, transizioni, ci sono anche degli effetti che io non utilizzo particolarmente, si può fare anche layering, quindi se volete mescolare video diversi o aggiungere delle immagini che appaiono poi scompaiono all'interno del video, è un'applicazione molto carina. Io di solito per editare utilizzo InShot, VN rispetto a InShot, ha qualche piccola funzionalità, diciamo in più, tra virgolette più professionale, ecco. Per quanto riguarda invece i video su YouTube, un canale che ho riscoperto, o meglio una YouTuber che ho riscoperto nell'ultimo periodo, è Giulia Grasso. Io la seguivo tanto tanto tempo fa sul suo canale Giulia Watson, mi ricordo che ai tempi guardavo un sacco di DIY e lei faceva proprio quelli classici da Pinterest per intenderci, aveva la classica stanza da room tour americano e negli ultimi mesi l'ho riscoperta come YouTuber perché ha aperto un altro canale YouTube che si chiama appunto Giulia Grasso. E in particolare nelle ultime settimane ho visto che ha fatto uscire diversi video vlog come piacciono a me in stile un po' coreano in cui si parla poco e si va a vedere principalmente la casa, la pulizia, la riorganizzazione, eccetera, eccetera. Quindi sono, diciamo, tornata un po' in fissa con i suoi video e me li metto sempre in sottofondo magari quando ho la pausa pranzo. Questi erano quindi i miei preferiti dell'ultimo periodo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avete scoperto voi magari nell'ultimo mese, se c'è un'applicazione, un prodotto o un creator che vi sono piaciuti particolarmente, sono molto curiosa. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!